amici e amiche di spazio e te con salute un bentornati da marco sul nostro canale youtube in compagnia finalmente di vivo x 51 dopo averlo visto protagonista di un nostro video anteprima oggi sono pronto a raccontarvi come mi sono trovato con lui nel corso di queste giornate di utilizzo prima di lasciarvi il video però doverose premesse lasciate tanti mi piace a questo video commentate nel box qua sotto con tutte le vostre domande in merito iscrivetevi al nostro canale youtube il 91 per cento di voi che guarda questo video non è iscritto fatelo subito sigla materiali e touch and feel molti dei nostri ragionamenti ruoteranno attorno al termine nuovo accostato nelle scorse settimane a più riprese al brand vivo il nuovo player la nuova azienda che entra nel mercato per molti di voi alla visione di questo video potrebbe anche essere così ma è bene fermarci un attimo a fare una doverosa premessa vivo infatti rappresenta ormai da anni un punto di riferimento in cina per quanto riguarda il mercato tech mobile ecco perché non passa inosservato e non è neanche difficile da giustificare questo splendido design di x51 un trattamento dei materiali da assoluti re della categoria devo ammetterlo il colore rientra pieno e tanto nei miei gusti ma questa sfumatura e questa finitura posteriore opaca sono veramente da capogiro a tutti coloro ai quali ho mostrato questo smartphone il design è piaciuto complice anche un modulo fotografico posteriore che è insolito nella sua composizione sulla sua qualità torneremo a breve però chiudendo l'area materiali quindi un voto altissimo senza dubbio con un peso inoltre che risulta molto ben bilanciato in mano uno smartphone che si farà usare molto volentieri sul frontale è una scelta in controtendenza potremmo dire ma che dimostra ancora una volta tutta la volontà dell'azienda di non voler porre limiti al suo sbarco alle nostre latitudini il protagonista in pianta frontale infatti è il display dotato di bordi edge con un singolo foro superiore nell'angolo superiore per la selfie cam qui una menzione extra ed obbligo i bordi sono infatti molto pronunciati anche se non come su motorola edge per darvi un metodo di paragone frutto di un'altra nostra recensione che vi invito ad andare a recuperare qui non mi espongo so che in atto ormai una guerra tech da diversi anni su chi ama e chi odia questa scelta stilistica mi limito a dire che l'impatto visivo generale è da primo della classe senza dubbio display abbiamo accennato al display indicandone le sue curve ed il suo singolo foro mentre ora ci immergiamo meglio alla sua scoperta più nel dettaglio ci troviamo davanti ad un pannello amoled in risoluzione full hd con diagonale da quasi 6,6 pollici il refresh rate è dinamico con valore massimo a 90 hertz si può via software selezionare e bloccare il refresh sia a 60 che a 90 hertz o lasciare al software libertà di azione una delle aree che merita una menzione positiva in tutta la scheda tecnica senza dubbio scorrevolezza e piacevolezza d'uso da flagship con angoli di visione e contrasti che vi soddisferanno non ho avuto mia fortuna nessun problema per quanto riguarda strane sfumature e tonalità verdi rosse come in occasione di altri smartphone in questo strambo 2020 assolutamente promosso con la postilla dei bordi edge che ovviamente come saprete potranno portarvi a qualche tocco accidentale cosa che mi è capitata durante queste giornate di prova nulla di grave ci mancherebbe ma giusto da segnalare camera in questa recensione per ovvi motivi di spazio di lunghezza non mi dilungherò quanto servirebbe in quest'ambito vi dico però che arriverà un video un contenuto scritto dedicato appositamente alla camera di questo vivo x51 vi lascio però qualche dato per poter iniziare l'analisi e farvi capire le mie valutazioni leggendo brevemente la scheda tecnica si potrebbe essere tentati nel non dare troppo peso a questo comparto essendone magari annoiati dalla solita 48 megapixel come ottica principale in realtà la magia di questo smartphone è però proprio nel comparto camera la stabilizzazione gimbal è infatti l'arma segreta di questo smartphone in grado di farvi cambiare completamente idea e di annientare molte delle vostre sicurezze in ambito fotografia mobile forse qui è dove viene dimostrata tutta la forza di vivo come azienda come in occasione di alcune innovazioni passate ma di sicuro l'effetto wow è assicurato più nei video che nelle foto quello è vero con scatti che sono da smartphone di media alta categoria ma non così straordinari le clip che registrerete invece vi lasceranno senza parole se siete alla ricerca di un device per poter avere scatti video fuori dal comune nessuno come lui potrà soddisfarvi audio forse stava andando tutto troppo bene in questa recensione arrivano infatti le prime note dolenti legate ad audio e vibrazione nel primo caso l'uscita è mono e non stereo per quanto riguarda la vibrazione invece un feedback da smartphone entry level peccato perché chi comprerà questo smartphone potrebbe trovare queste due note veramente molto stonate rispetto al restante quadro delle specifiche processore ram e rom che questo sia l'anno dello snapdragon 765 g penso che non sia necessario ribadirlo anche in questo vivo x51 trova spazio questo riuscitissimo processore qualcomm che quest'anno in proporzione ha convinto forse ancora di più della variante top 865 questo smartphone in una parola sola vola velocissimo in tutti i contesti dalla navigazione social al browser passando anche per i giochi gli 8 gigabyte di ram sono un quantitativo assolutamente sufficiente anche perché come vedremo fra poco l'area software non è per niente esigente in termini di potenza bruta i 256 gigabyte di memoria utente completano poi il quadro di una scheda tecnica che se sulla carta non è la migliore presente su piazza alla prova dei fatti ha assolutamente poco da invidiare ai competitors software nella nostra anteprima è stata una delle aree focus si tratta di una scelta in controtendenza con il passato del brand con una virata verso il mondo stock di android per coloro di voi che in passato hanno provato ed acquistato smartphone vivo si tratterà di uno stravolgimento molto importante devo dire però che questa decisione è secondo me non solo corretta ma anche funzionale al terminale e ha dallo scopo che l'azienda si è prefissata proprio con questo smartphone se l'idea era infatti quella di tracciare una linea di demarcazione col passato e far partire una nuova era questa scelta è secondo me la più azzeccata in grado di andare incontro alla stragrande maggioranza degli utenti con un approccio semplice ma non noioso secondo me tutto al giusto posto un po' come sugli smartphone pixel per farvi capire con opzioni che magari non saranno complete come a livello di samsung o huawei ma non vi faranno mai sentire spaesati se in un futuro arriveranno implementazioni dedicate via software lo scopriremo spero però che la base rimanga assolutamente questa batteria un campione anche di autonomia la batteria di questo smartphone non è in assoluto quella più grande mai vista in un dispositivo mobile con i suoi soli 4315 mAh ma alla prova dei fatti riuscirete a chiudere sempre le vostre giornate pensando alla potenza e dalle potenzialità di questo smartphone non rimarrete assolutamente delusi sia che lo andiate a utilizzare in lte 5g che in wifi oltre 5 ore di display acceso non sono utopia quindi per un'area del device che non posso che promuovere prezzo display da primo della classe costruzione al top camera unica o quasi nel suo genere tutte queste sono solo alcune delle caratteristiche che riassumono questo smartphone caratteristiche che portano un prezzo di listino che forse non piacerà a chi proprio di voi non conosce nulla dell'azienda ma che secondo me non sono così fuori fuoco serviranno infatti 799 euro per portarsi a casa questo vivo x51 per fare un parallelismo con un'altra azienda che soltanto pochi anni fa ha fatto il percorso che ora sta facendo vivo oppo con il suo primo find aveva avuto pretese ben più alte se state quindi cercando un device unico nel suo genere che restituisca sensazioni all'utilizzo veramente eccellenti questo device può fare il caso vostro se poi siete degli sportivi e volete provare la sensazione di avere un action cam all'interno del vostro telefonino non potete perdervelo eccoci arrivati alla fine di una nuova recensione vi ringrazio da parte mia di marco da parte di tutto lo staff di spazi tech per averci fatto compagnia anche in questa recensione di vivo x51 lasciate tanti bei pollicioni all'insù commentate nel box qua sotto iscrivetevi al nostro canale youtube e venite a parlare con noi direttamente su facebook instagram e sul nostro gruppo aperto su telegram vi aspettiamo ogni giorno per poter discutere insieme della nostra passione comune la tecnologia al prossimo video ciao